Il Backside Crooked Grind, anche conosciuto come Crooks o K-Grind, è uno dei trick grind più comune in cui si scivola solo con il track anteriore con la tavola angolata a lato del ledge. Approccia il ledge che ti sta alle spalle praticamente parallelo, un leggero angolo può essere d'aiuto. Metti i piedi in posizione holly e fai un holly salendo verso il ledge. Mira con il track anteriore il ledge e aggancati lateralmente con il track anteriore. Poi sposta tutto il peso sul track anteriore per scivolare sul track in equilibrio. È importante che la ruota esteriore, quella sotto al tallone, del track davanti sia sopra il ledge. Questo spiega la provenienza del nome Crooked Grind. Per uscire alla fine del ledge spingi la tavola in fuori premendo in avanti sul track al di sopra del ledge. All'inizio sarà difficile uscire dal ledge. Per facilitare l'uscita puoi provare a girare 180 gradi e uscire in fakie.